focus sul tiro dinamico sportivo lorenzo come hai scoperto questa disciplina come ti sei avvicinato e perché oggi è unica i tuoi occhi beh allora l'ho conosciuta perché mio padre la pratica da sempre più o meno anche se ho cominciato perché ho un mio amico voleva fare il corso bronzo che è il corso per cui ci si può abilitare a praticarla nei campi e lui aveva voglia di farla ha detto perché non lo fai anche te già che so che tuo padre lo pratica e ci siamo iscritti al corso bronzo poi io ho continuato e lui invece si è fermato due ragioni per praticare è divertente e fai tanta attività fisica innanzitutto ti ci sono tanti spostamenti da fare infatti uno un esercizio di solito è composto da tante sagome dentro a un si può dire recinto più o meno le varie carte sono nascoste dentro finestre dietro barricate e così via e devi cercare di ingaggiare tutte le sagome nel miglior tempo possibile cioè di fare più punti possibili guardando al ultimo anno appena trascorso quali sono stati i risultati più importanti che ho tenuto beh sicuramente sta partecipazione all'europeo in grecia a settembre e per il resto quest'anno purtroppo non sono riuscito a partecipare ai nazionali perché ero appunto in grecia l'anno scorso partecipavo nella categoria production e diciamo i più forti erano quasi tutti nella zona intorno a roma roma terni anche un po in in umbria e quest'anno invece mi sono spostato in un'altra categoria che si chiama classic e i più forti sono principalmente al nord molti sono zona bergamo comunque la zona di circa dagli europei a nel 2024 quali sono i tuoi obiettivi ma quest'anno l'obiettivo sembra cercare di vincere il national come master